Buon anno intanto, visto da molti colleghi che ci sono. Intanto volevo chiederle che significato ha questa partita in questo momento, sia dal punto di vista psicologico al di là di quello sportivo, dove naturalmente i tre punti sono fondamentali. Ma è normale che veniamo da due sconfitte, quindi il momento della squadra è sicuramente di grande rivarsa, di voler riprendere una vittoria perché ci permette di lavorare sicuramente con più entusiasmo. Vogliamo comunque cancellare l'ultima partita dell'anno perché non abbiamo fatto né la prestazione né il risultato e quindi c'è grande rivarsa nella testa, negli occhi dei ragazzi. Li ho visti arrabbiati al punto giusto, sapendo di affrontare una squadra che anche loro in difficoltà ma in ripresa hanno fatto un pareggio a Napoli e hanno dei valori che anche loro non riescono in questo momento a esprimere al massimo e quindi è una partita difficile. Da parte nostra cerchiamo di concentrarci su di noi cercando di fare la partita che ci serve per poter vincere questa partita. L'assenza di Gervinio sarà sostituita solo dal punto di vista numerico senza cambiare sistema di gioco o potrebbe anche pensare a qualcosa di diverso per la fase offensiva visto che manca Livorian? Per noi è un'assenza molto pesante in Rosa non abbiamo giocatori simili a prescindere da chi lo sostituisce sarà un'opportunità per dare sicuramente qualcosa alla squadra e per far sì di poter avere anche delle risorse oltre a Gervinio che è una certezza. Il parco davanti recuperiamo discretamente Miaila ma non ha i 90 minuti e quindi davanti le scelte più o meno sono quelle come giocatori offensivi non abbiamo grandissimi dubbi a prescindere da chi giocherà è l'atteggiamento che deve essere quello di voler andare a fare male di voler essere determinante e di determinare nelle scelte soprattutto che possano essere assist che possano essere presenze in area di rigore questo è a prescindere dai problemi quello che abbiamo un pochino più avuto come problematiche cioè giocatori poco propensi a riempire l'area di rigore e questo è un campionato che l'area di rigore va riempita se no diventa difficile poter far gol. Buon pomeriggio mister un anno a tutti è un periodo un po' delirato il testimone appunto il riro oltre che i risultati non arrivano l'aria si respira si ha respirato e ha vissuto diciamo così questo periodo in cui sono stati frequenti quei summit e le rioni ma guarda io posso dirti quello che respiro qua dentro respiro dalla proprietà dai dirigenti l'aria è sicuramente di un momento che non può essere felice questo sarebbe poco intelligente da parte di tutti ma la serenità è di capire il momento che sicuramente è difficile ma che ci sono tutte le possibilità tutte le tempistiche per poterne uscire io come dico sempre questa squadra ho oggi per tantissimi motivi probabilmente sono più di uno no? perché se fosse uno sarebbe molto più facile credo che per una serie di motivi la squadra non si espressa mai a più del 50% quindi da una parte sono convinto che questa squadra ha grandi margini di miglioramento sicuramente davanti dobbiamo migliorarla e cercare di portare al massimo della loro condizione i giocatori che abbiamo è normale che Gervinio in questo momento a questa squadra è una assenza pesante però è anche un motivo credo di di spronare no? giocatori che magari hanno avuto meno possibilità proprio a far sì che diano presenza importante e credo che una partita del genere possa possa darti tante risposte spero che siano molto più positive Nel atto lei probabilmente avete parlato di motivi in questo periodo di in questo periodo di di stare insieme e condiviso un bel po' di giorni un po' di giorni come quali sono le risposte che cioè sono arrivate le risposte che cava quali quali sono secondo lei che avete fatto un po' quadrato la serie di motivi per cui la squadra stessa ma io credo che la squadra ti ripeto doveva stare insieme confrontarsi ma anche stando solo insieme conoscersi meglio proprio i caratteri i pensieri è normale che ti ripeto per quelle che sono ecco perché ti dico tante problematiche perché per una squadra come noi che cambia talmente tanto il non stare insieme non ti permette di accelerare la conoscenza questi giorni non è che li abbiamo vissuti come una punizione li abbiamo vissuti proprio per per stare insieme per per conoscerci meglio per magari capire anche i caratteri però è uscito fuori sicuramente un'unione una voglia di riscatto gli allenamenti sono stati di di buon livello quindi ho la fortuna ecco perché ti dico nella serenità affrontando poi il momento di allenare un gruppo forte un gruppo caratterialmente eccezionale di bravi ragazzi quindi c'è da trovare sicuramente la continuità di prestazione e punti ma questo lo possiamo fare solo stando insieme abbiamo deciso proprio questi giorni per lavorare per cercare di dare un po' più di di intensità al lavoro visto che venivamo da 10-15 giorni dove non potevamo allenarci e credo che questo abbia dato sicuramente una cosa positiva le partite ci diranno poi se il lavoro fatto è di crescita o no Alberto buongiorno mister buon pomeriggio Alberto Rugolotto TV Parma e le chiedevo un commento sul Torino insomma è una squadra in difficoltà però è reduce comunque da un buon pareggio con Napoli cosa si aspetta ecco anche come tipo di approccio alla partita ecco guarda io faccio sempre un po' di analisi siamo arrivati a Natale io credo che il Torino insieme a noi e insieme a qualche altra squadra sono state poche squadre che hanno cambiato tanto tra cui c'è anche il Torino e quelle più o meno in difficoltà sono quelle che hanno cambiato l'allenatore noi oltre a questo abbiamo cambiato tutto dalla proprietà al direttore sportivo e quindi le difficoltà poi di questo campionato sono sotto gli occhi di tutti quelle squadre che hanno cambiato guida tecnica ed altro sono quelle che soppicano un po' di più e quindi questa è un po' la fotografia tra queste c'è il Torino poi è normale che il Torino come credo noi nella rosa ha il potenziale più alto di quello che sta esprimendo e quindi è comunque una rosa di valore quindi va affrontata sapendo che è una squadra di valore che non sta rispeccando quello che sono le valutazioni dei giocatori ma che nelle difficoltà noi dobbiamo comunque guardare il Torino per le qualità che ha e non per la classifica e fare una partita di grande determinazione di grande attenzione di grande qualità per poterla vincere mister la seconda domanda era invece sul diciamo sul ruolo di play lei ha perso Scozzarella per il mercato sono due domande in una le chiedo se domani ballottaggio un po' Brugman e Somm oppure non solo e se si aspetta un rinforzo in quel ruolo al di là della fiducia nei giocatori che ha ancora a disposizione no credo che anche se è un ruolo in cui non abbiamo trovato ancora la quadra io credo che in rosa ci sono i giocatori per poterlo fare a buon livello sul mercato non cerchiamo quel ruolo abbiamo già detto più volte dove dobbiamo completare che è soltanto il reparto offensivo per il resto la squadra è forte ed è completa è normale che dobbiamo trovare quel tipo di giocatore per continuità perché è poi un giocatore fondamentale in un certo tipo di calcio però io credo che nella rosa abbiamo dei giocatori che hanno quelle caratteristiche dobbiamo qualcuno aspettarlo qualcuno supportarlo qualcuno renderlo più partecipe però credo che la rosa non vada alla ricerca di quel ruolo Antonio? Antonio? Eh sì buongiorno buon anno in questi giorni di ritiro su qualità si è provato a toccare su cosa ha lavorato per cercare di risolvere un po' il problema del gol ma è normale che come la fase difensiva anche la fase offensiva è completa è vero che a noi ci mancano troppo i gol degli attaccanti forse per Cornelius è inglese per una questione di continuità e condizione Caramò è alla prima stagione vera e probabilmente non ha ancora quel DNA del gol e adoro Gervinio è quello che insomma ha più confidenza ha più esperienza e quindi poi è quello che ha fatto quattro gol gli altri sono tutti giocatori da scoprire sia Brunetta sia Miaila non possiamo sapere in dote quello che ci potranno dare in lato offensivo obiettivamente non è che vengono da stagioni o da campionati in cui possiamo avere una certezza di quello che ti può dare ad oggi i giocatori su cui abbiamo delle certezze possono essere in condizione ottimale Cornelius e Gervinio inglese perché viene da due anni di quasi in attività e gli altri non hanno in dote i campionati che possiamo dire sai loro ci garantiscono 5, 6, 8, 10 gol all'anno è questo un po' la problematica del nostro reparto totale cioè avere tra virgolette che poi non esistono quelle certezze di tipo di giocatore con Gianpaolo è una sfida inedita sul campo ma so che vi eravate conosciuti ai tempi dell'Empoli aveva anche espresso parole di elogio il giudizio è cambiato è migliorato ma io credo che Gianpaolo io analizzo così gli allenatori poi può essere giusto o sbagliato io credo che Gianpaolo è un allenatore che dà un'identità alla squadra delle volte come tutti noi ci riusciamo velocemente c'è chi ci mette un pochino di più ed è normale che la nostra identità ognuno la esprime per quello a cui crede credo che sia un allenatore che ha idee è rispettoso un allenatore che lavora e quindi da parte mia anche nella difficoltà ho grande ho grande ammirazione e grande rispetto per l'allenatore tutti noi abbiamo scelto un mestiere tra virgolette un ruolo che è sempre sotto la lente di ingrandimento però non so come la vive lui io la vivo serenamente perché credo di fare al massimo quello che che è il mio lavoro poi è normale che tutti noi facciamo parte dei risultati e veniamo anche giudicati per quello Francesca sì buongiorno e buon anno facendo un passettino indietro ma in chiave propositiva vi siete dati delle risposte al blackout di Crotone non per parlare di punti persi che tanto non torrano ma per evitare che si ripeta ma le possibilità credo che che siano diverse no sicuramente il primo tempo di una squadra un po' stanca un po' slegata poco propensa poco propositiva abbiamo subito troppo i primi 45 minuti sicuramente un po' ti lascia amareggiato e un po' ti da positività il secondo tempo almeno sotto sotto forma della determinazione della lotta di vincere qualche duello la risposta del secondo tempo anche se non ordinatissima aveva creato buone occasioni insomma potevamo via anche andare via con un risultato positivo il blackout è stato dei 45 minuti credo molto probabilmente anche un po' di stanchezza fessi giocatori il crotone è partito forte non abbiamo avuto la forza di leggere i primi 45 minuti adesso senza voler chiedere la formazione diciamo intera abbiamo detto mi hai la sta benino quindi potremmo aspettarcelo dal primo minuto prima parte la domanda seconda parte visto che finalmente siete riusciti a fare un po' di ritiro perché in estate sostanzialmente gli era mancato i nuovi i nuovi arrivati ora li vedi parte più integrante di questo gruppo possiamo iniziare a vederli magari con più continuità allora mi hai la non dal primo minuto ma sicuramente rientra per poter essere una soluzione delle volte ci si ci si sofferma poco al valore sicuramente i nuovi più tempo passa e più sono integri nel gruppo e la lingua è un problema grande cioè nel momento delle partite il dialogare il parlare l'aiutarsi in certi momenti ha un valore alto loro si stanno un pochino impegnando le problematiche del covid stavano facendo un po' di lezioni di italiano si è fermato un po' la lingua in questo in questo senso ha un valore molto alto per la comunicazione quindi più tempo passa sicuramente è un vantaggio e loro saranno giocatori che ci ci servono ci saranno utili ma bisogna avere pazienza proprio perché è un campionato talmente difficile che bisogna aspettarli Nicolò Buon pomeriggio mister buon pomeriggio a tutti buon anno mister le chiedo di un ragazzo le chiedo di Ciprienne anche collegandomi alla domanda di prima e alla sua risposta del secondo tempo di Crotone in cui si sono viste cose positive le chiedo se Ciprienne lo potremo rivedere domani dal primo minuto e soprattutto se per lei è più un regista o è in grado anche di fare la mezzala o chissà anche il teoquartista No è in ballottaggio sicuramente credo che per questo tipo di modulo il suo ruolo principale sia da play Perfetto e le faccio una domanda anche su Gervinio che sappiamo si è fatto male durante la partita con la Juve se sa quando lo potrai avere a disposizione se sta seguendo il suo percorso di recupero se è già tornato dalla costa d'Avoio o è ancora in Africa Gervinio è sempre in contatto con noi ha fatto una risonanza ha iniziato il lavoro di recupero credo che sia in partenza oggi quindi credo tra stasera o domani arriverà qui a Collecchio per finire l'ultima parte però insomma prosegue bene non era una lesione molto grave fortunatamente quindi credo che da domani quando arriverà qui con i controlli un pochino più da vicino possiamo dare un pochino più una data certa per il suo rientro grazie a tutti Grazie a tutti.